Sono ritornato nella mia casa naturale dove io sono cresciuto sin da ragazzo quando frequentavo la sezione est della democrazia cristiana al Viale della Vittoria. Io ho una lunghissima carriera politica oltre che professionale, devo dire che dopo i dieci anni di consigliere comunale, i dieci anni di presidente della provincia e poi il Parlamento nazionale e quello regionale è chiaro che non posso chiudere così la mia carriera politica nonostante il risultato che purtroppo non è stato positivo alle ultime regionali, non per colpa certamente mia ma per il fatto che purtroppo il partito non ha raggiunto la soglia del 5%, desidero continuare a far politica perché è nel mio DNA, voglio interessarmi delle questioni che riguardano il mio territorio, i miei cittadini e lo voglio fare da una postazione che è all'interno di una componente di un partito dove io mi riconosco soprattutto per gli ideali, per i valori che sempre ci hanno con gran distinto, noi siamo dei cattolici assolutamente portati verso la moderazione, la tolleranza, la solidarietà, verso attenzioni nei riguardi soprattutto delle fasce più deboli della nostra comunità e quindi con questi principi desidero continuare questa mia attività anche fuori dal palazzo, si può fare politica anche senza avere un incarico preciso e quindi è questo che io voglio fare e mi voglio spendere proprio per questo motivo. Oggi siamo qui, quindi abbiamo ufficializzato questo passaggio con noi, con l'Italia e l'Udc, quindi lo studio crociato, tutti i nostri amici sono qui presenti.